Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Vispesaro è ancora nottefonda. Il debutto stagionale dei Biancorossi non è stato certamente dei migliori, uscendo infatti sconfitti dal campo della Robursiena con il risultato finale di 3-0 per gli avversari. La squadra allenata da Mr. Banchini parte con il piede sbagliato, andando sotto di una rete dopo appena un minuto dal fischio d'inizio del match. Una vis ferita nell'orgoglio dal gol subito e che nei successivi minuti tentenna a creare gioco, affidandosi per lo più alle giocate dei singoli, non riuscendo però a trasformare in rete le poche occasioni create. Il raddoppio dei bianconeri non si fa attendere e al 22esimo del primo tempo il Siena si trova avanti di due lunghezze, con il 2-0 siglato in favore dei padroni di casa. La Vis cerca una reazione, ma l'assalto alla porta difesa da Lanni non porta il risultato sperato. A 7 minuti dalla fine del primo tempo, l'episodio che cambia definitivamente la partita. Capitan Gavazzi, già ammonito, trattiene il capitano avversario lanciato in rete e il secondo giallo è soltanto una formalità. Con l'espulsione di Gavazzi, dunque, la visse prosegue in 10 per tutto il resto della partita. Nella ripresa, i biancorossi provano a cambiare qualcosa tatticamente, ma il nuovo assetto produce poco o nulla, fino a quando non arriva puntuale la seconda rete di Varela, che aggiorna definitivamente il punteggio sul 3-0. Una visse spenta e con troppo individualismo si arrende all'Artemio Franchi di Siena e al termine del match, lo stesso allenatore biancorosso Marco Banchini si assume le responsabilità, ammettendo di aver sbagliato e riconoscendo che la partita è stata condizionata soprattutto dal gol preso poco dopo il calcio d'inizio. Per i biancorossi ci sarà ancora tanto da lavorare, soprattutto in vista della prossima partita di campionato che vedrà la Vispesero affrontare allo stadio Benelli il Pontedera, un'altra squadra toscana, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Carrarese.